Oggi ci siamo imposti per 3-0 sull'Unione Campo San Martino. In settimana abbiamo preparato la partita sapendo che comunque era una squadra abbastanza compatta e infatti nel primo tempo siamo riusciti a segnare solamente un gol, proprio perché erano ben chiusi in difesa. Con il secondo tempo poi abbiamo trovato più spazi, infatti con i passaggi in diagonale siamo riusciti ad arrivare molte volte al tiro, però molte volte siamo stati diciamo troppo molli e non eravamo convinti per chiudere la partita un po' prima. Però sono soddisfatto della mia prestazione e anche quella della squadra, anche se c'è ancora molto da migliorare.